Le case rase al suolo, le strade impraticabili, le attività in ginocchio. Castelluccio di Norcia, la località nota per le lenticchie, è un paese fantasma dopo il terremoto che l'ha distrutta. Ravenna si organizza per sabato 7 gennaio dalle 15 una corsa il cui ricavato verrà destinato alla ricostruzione del piccolo paese. È un'iniziativa che è stata ideata da Atmosfera Eurredica SD, che è presenziata da Antonella Valletta, la quale insieme a me, che in pratica poi sono suo marito, abbiamo conosciuto Castelluccio dal vivo come turisti e ce ne siamo innamorati. Dopo il disastroso terremoto del 30 ottobre che lo ha raso al suolo, ci siamo attivati insieme agli amici che avevamo conosciuto in luogo per cercare di fare qualcosa e raccogliere fondi per la ricostruzione del paese conosciuto in tutto il mondo per la famosa lenticchia rossa e la fioritura della lenticchia. Di conseguenza abbiamo pensato di organizzare una gara podistica, abbiamo chiesto la collaborazione a Ravenna Runners Club di Ravenna, organizzatrice della Maratona Internazionale di Ravenna, e questo progetto è nato praticamente in 40 giorni e l'abbiamo identificato come hashtag ricostruiamo Castelluccio. Castelluccio